Il laser è un cordino per il recupero con elicottero. Qui abbiamo simulato il verricello dell'elicottero, quindi il cavo, che viene connesso nella testa del laser e alle due longe nere, le gambe dell'esara, si connette il soccorritore. Spesso e volentieri le operazioni di recupero, sia chiaramente di calata e poi di recupero, vengono fatte in parete. Una delle criticità più grosse, anzi che ha causato anche parecchi incidenti, è quando il soccorritore si approccia alla parete e si deve connettere alla parete per dover fare l'operazione di soccorso, stabilizzare la vittima. Cosa succede? Che in quel frangente lì, se lo fa con la propria longe, vincola l'elicottero direttamente alla parete, creando un'enorme criticità di rischio, perché qualsiasi problema l'elicottero non può essere svincolato. Ecco, il laser ha risolto in maniera innovativa questa problematica. Vedete la longe gialla, la coda del laser, vuol dire lucertola. La coda ci permette di metterci in sicurezza sull'esar. Caso che l'elicottero deve andare via e qui abbiamo il carico, la coda si perde, rimane alla parete. Dal momento che invece si sconnette il sistema e andiamo in tensione, quindi il grilletto non è azionato, il sistema è chiuso. Quindi rimaniamo vincolati in sicurezza alla parete. Nella fase di recupero, di nuovo, ci arriverà il cavo. Chiederemo l'autorizzazione all'aggancio. Dal momento che il gancio viene inserito dentro, viene messo in tensione e il carico passa sulla testa dell'esare viene azionato il grilletto, questa corda in caso di necessità può essere persa con poco carico.